Aveva pensato di farla franca il marocchino 22enne domiciliato a Teggiano, fuggito subito dopo aver causato un incidente. Ma non è stato così. Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina lo hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lago Negro. Il giovane, nella serata del 1 gennaio, pur essendo senza patente, si era messo alla guida della sua auto e, mentre percorreva la provinciale 39, ha finito per tamponare un automezzo che transitava lungo la sua stessa corsia. Fortunatamente l'impatto non è stato tale da provocare ferite al conducente, ma il 22enne non si è fermato ad accertarsene e a prestare eventuale soccorso. Si è dato invece prontamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, nella speranza forse di chiudere così una vicenda che avrebbe potuto procurargli dei guai. E invece non è stato difficile per i carabinieri della stazione di Teggiano identificarlo, tanto che dopo una veloce attività di indagine gli hanno subito notificato la denuncia. Dagli accertamenti, infatti, è risultato che non solo non aveva mai conseguito la patente di guida, ma che l'autovettura sulla quale viaggiava era sprovvista di copertura assicurativa e di revisione. Il mezzo dunque è stato sequestrato per la successiva confisca. Il 22enne ha dovuto rispondere di guida senza patente e fuga a seguito di sinistro stradale. Inoltre gli sono state elevate contravvenzioni per una somma pari a circa 1000 euro.